Che cos'è? La domanda giusta è che cosa c'è dentro. Un esercito di fantasmi. Non ho mai visto niente di simile. In tutta la città di New York sono in aumento gli attacchi dei fantasmi. E noi siamo gli unici attrezzati per affrontarli. Benvenuti al nuovo centro di ricerca sul paranormale. Penso che questa sfera comandi gli altri spiriti. Qualcosa cerca di uscire? Molte cose. Potremmo avere a che fare con un intero esercito di fantasmi. Così spaventosi da gelare il sangue nelle vene. Una profezia dice che quella sfera causerà la fine del genere umano. Una nuova glaciazione. Preparati. Arrostisci tutto quello che fa paura.